Ciao leggine, oggi parliamo di un mazzo di carte veramente bello dedicato ai draghi autrice Caroline Mitchell, scatolina rigida, carte davvero bellissime questo è il dietro e queste sono le carte dopo riceveremo un messaggio sono tutti tipiologie di draghi c'è anche il libretto di accompagno, guardate che belli tutti i draghi Drago della Pace, Tempo del Padre Confidence, insomma, oddio Grazia, oddio non mi viene Luna, Destiny, Destino Obron, che cos'è questo? Scopriamolo insieme vediamo un po' allora che numero è? Vediamo un po' 14 allora, innanzitutto il libretto è molto utile ah ok, Obron è un nome, ecco perché allora, il libretto di accompagno è molto utile perché dentro spiega come sono suddivisi i draghi allora, ci sono i draghi che hanno camminato sulla terra i draghi galattici, i draghi maestri, maestri draghi e i draghi guardiani, quindi quattro tipologie di draghi ok è bellissimo, ora lo andiamo ad utilizzare si può avere la guida quotidiana si può avere la guida mensile si possono fare le letture con i punti cardinali quindi Nord, Sud, Ovest e Est insomma, vari metodi di lettura tutti spiegati qui il libretto è abbastanza consistente sono in tutto 147 pagine piccoline andiamo a ricevere un messaggio da uno dei draghi vediamo innanzitutto quale tipologia di drago ci capiterà e che messaggio ci va a portare mentre mischio, se questo video ti è piaciuto regalaci un like se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia allora, subito allora, il messaggio per noi arriva da Crystal allora, vengono che bello guardate che bello vengono sono messi in ordine numerico quindi Crystal è il numero 19 quindi vado a 19 ok questo bello e questo drago bello e di pace ha il ruolo di drago galattico ed è del supporto ai bambini e le persone Indaco e Cristallo che hanno delle particolari capacità e addirittura possono anche fino ad arrivare a come dire, a coprire anche persone con spettro autistico lei è una draga infatti ha il nome di Crystal proprio come i bambini Cristallo e ha l'urgenza di di farti esplorare la tua ricchezza di talenti in ogni area della tua vita per esempio nello sport, nell'arte, nella musica anche in altre cose nella ceramica ti vuole far dedicare a qualcosa di creativo che ti metta nel flusso se Crystal appare a te quindi se esce la carta Crystal lei ti incoraggia ad aggiungere colori vibrazioni emozioni e creatività nella tua vita e infatti ti chiede di lasciarti guidare per farti entrare nel ritmo della vita quindi i draghi un po' come anche gli unicorni queste creature oggi mitologiche un tempo presenti sul nostro pianeta ci invitano sempre a recuperare degli aspetti della nostra vita che proprio come loro stanno andando stiamo rischiando di perdere o che comunque trascuriamo perché sappiamo ci viene detto insomma che altri aspetti più adulti sono importanti in realtà non è così c'è quella parte di noi che è legata appunto ai talenti ai doni soprattutto sapete vi sentite anime cristallo indaco se avete a che fare con bambini anime cristallo indaco è il momento di tornare e rientrare nel flusso attraverso attività che risveglino i tuoi talenti spero che questo messaggio ti sia piaciuto questo è un bellissimo oracolo se ti piacciono i draghi o se vuoi lavorare un pochino con i draghi sono delle guide molto preziose spero che questo video ti sia piaciuto tanta luce ciao ciao